Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati sulle nostre rette Teletebe e Mediasud. Stasera una nuova puntata di Italia Terra Promessa. Ho il piacere di avere con me un ragazzo afgano che si chiama Moabate Kanala. Buonasera Moabate. Buonasera a tutti, buonasera a te Adriana per l'invito. In tante parti del mondo, il futuro dei ragazzi viene infranto dai conflitti armati, religiosi, dalla fame. Questi ragazzi si trovano di fronte a prendere una decisione di lasciare le loro case, le loro famiglie andando verso una via a volte che non conoscono. Moabate, tu quanti anni avevi quando hai lasciato la tua patria? Cosa provavi in quel momento? Avevo 14 anni quando sono scappato dal mio paese. Cosa ho provato? Non ti so dire perché non me lo ricordo bene. Ovviamente il dolore della famiglia a lasciare lì, sì, ovviamente c'era questo dolore e il resto non ti so dire che cosa ho provato più che altro. Non so che cosa raggiungere questo. Perché magari non avevi una meta, un punto di riferimento dove potevi sapere che vuoi andare e dove sapevi di arrivare. Sì, questo sì, infatti questo non... cioè non avevo un punto di riferimento, per esempio io devo arrivare a questo punto o magari devo arrivare a Italia o magari devo arrivare a un altro paese europeo. Però sì, il punto di riferimento è l'Europa, però il paese no. Questo sì. E perché ti sei fermato qui in Italia? Ah, questa è una bella domanda che mi hanno fatto tanti i miei compagni, tanti i miei amici. Perché ti sei fermato qua? Anzi, pure mi dicevo perché ti sei fermato proprio a Castrovilleri. Questo perché sono arrivato con il camion, sotto il camion, mi sono imbarcato in Grecia, da Grecia, come sapendo ora le strade più o meno è la cosa che sicuramente questo camion viene sbarcato a Brindisi. E questo camion in pratica è arrivato a Frescinetto e l'ha preso l'autostrada andando verso Cosenza dopo un certo tratto di strada e lui si è fermato sull'area di sosta che è grande per mangiare o per fare qualcos'altro. Più che altra, se non mi sbaglio, stavo mangiando. Allora io mi sono stancato dopo 12 ore di viaggio lì sotto il camion e sono sceso lì sull'autostrada. Però ti... Mi sono trovato lì dentro, proprio sull'autostrada. Ti voglio fermare un attimo perché tu hai detto da Grecia sei partito, però da Afghanistan fino a Grecia c'è tanto. Quindi raccontaci. Da Grecia sono passati altri tre paesi, che è Pakistan, da Pakistan Iran, Iran Turchia e da Turchia Grecia. E come hai fatto questo passaggio? Sempre camion? No, no, questo passaggio non solo camion, non solo macchina, non solo pullman. Ho fatto di tutto, piedi, macchina, pullman, camion. Di notte, di mattina, non avevo l'orario. Quindi ho fatto tutti i mezzi per arrivare fino a Grecia. Un viaggio durissimo perché eri un ragazzo di 14 anni. Questo viaggio l'hai intrapreso da solo? Non ho capito, in che senso da solo? Da solo eri accompagnato da qualcuno? No, ero accompagnato e c'erano altri ragazzi con me, sì. E come si svolgeva? Come si mangiava? Come tutte le cose normali di ogni giorno? Il svolgimento era... Non avevo gli orari. Quando loro avevano la possibilità di portare da una parte all'altra parte perché si è sentato i commenti senza niente. Quindi loro devono cercare il modo di trovare il punto, ma che quando loro sono... Può portarti da un paesino e l'altro. Cerca di non avere qualche, diciamo, pulizia, qualcosa sotto e quindi ti porta. Le orari non c'erano. La mattina, la sera, quando capitava. Quando loro erano disponibili, aveva la possibilità di portare da un paese e l'altro lo faceva. Quindi tu dovevi sempre aspettare qualcun altro? Colgo un altro che queste persone in pratica sono persone che io... È una catena di persone alla fine. Io l'ho pagata una persona solo in Afghanistan e quello là ha la conoscenza per il paese e paese. Anzi, non per il paese. Lui ce l'ha un riferimento, per esempio, uno ce l'ha a Iran, un riferimento. Quando tu arrivi a Iran, dopo ad Iran, ce l'ha un altro riferimento in Turchia. E poi sei arrivato a Frascinetto che ti resta stancato di tutto questo viaggio che fra l'altro penso che era pure pericoloso, no? Sì, pericoloso sì, ma al momento non lo sapevo. Infatti, quando mi sono sceso dal camion, loro se ne andati, mi hanno dato un panino con pomodoro e un litro di latte, di busta, di un busto di latte, me l'ha data e loro se ne andati. Allora, anzi, prima di andarmene mi ha fatto un po' di domande, non sapendo italiano, però abbiamo parlato con i segni. Mi ha fatto la domanda come sei venuto e l'ha indicato proprio il loro camion se sei venuto con questo. Io lo dicendo di no, che c'era un altro camion, per fortuna è fermo, l'ho detto che sono venuto con quel camion lì. Allora, quando loro mi hanno visto in questa situazione, se ne andati via perché senza documenti... Per paura, più che altro. Per paura di andare a rischiare la vita per me che loro non lo sapevano in realtà. E dopo di che ho camminato, posso dire che ho camminato più di un'ora sull'autostrada come un pazzo, posso dire. Sì, perché mo' lo so, perché guido, quindi ho la macchina. Posso dire che ho un pazzo, sì. Adesso sei consapevole dei pericoli che correvi? E dopo di che, sicuramente come pensando io, che qualcuno avrà chiamato l'ANAS e loro sono venuti a prendermi e loro mi hanno portato all'uscita di Altomonte e da lì la polizia stradale mi ha portato a Frascinetto. La polizia stradale di Frascinetto e dopodiché sono arrivato a Castrovillari. Quando tu parli che hai viaggiato sotto il camion, io ti dico proprio la verità, non so, non mi posso immaginare come hai viaggiato. Spiega tu come, come si fa. Allora, come ho viaggiato? Rischiando la vita. Rischiando la vita perché tu, in senso che tu metti tra Cassonetto l'asse, lì rischi la vita perché non ce l'hai un posto nemmeno di appoggiarti bene. è più l'asse che è calda, che più cammina si diventa calda. Quindi rischiando la vita per andare a trovare un posto più sicuro. Questo è il viaggiando sotto il camion. Ovviamente se tu hai rischiato tanto, il posto da dove tu sei partito è ancora più rischioso. se tu ci puoi fare un piccolo resoconto di com'è la situazione lì, com'era in quel momento, che ovviamente anche adesso non è molto facile. Sì, il resoconto di questi è che magari quando c'era io c'era un po' di meno, un po' di sicurezza c'era. Però oggi, come oggi che io parlo ancora con la mia famiglia, la sicurezza non c'è più. nel senso che tu la sera magari non puoi uscire nemmeno dalla casa. Quindi per andare fuori fare giusto una passeggiata perché se vai lì non sai più se torni a casa vivo o morto. E questa è la vita. Ultimamente davvero ho lì perché è rinvinato la situazione e è peggiorato quando c'era io. Adesso tu sei una persona regolare diciamo con i documenti tutti a posto. Ma come è avvenuto questo? A tua età penso che non sapevi le leggi. Chi c'è stato che ti ha indirizzato che ti ha aiutato in questo caso? Allora, chi mi ha aiutato? In pratica quando sono arrivato qua a Frascinetto, che ho detto precedente, che mi ha portato alla posizia stradale di Frascinetto a Castrovigliari, mi ha portato in una casa famiglia e questa casa famiglia mi ha aiutato molto. È da lì che è iniziata la seconda vita, quindi da lì ho iniziato tutto, lo sono messo in regola e ho cominciato ad andare a scuola. I primi due anni l'ho perso per la terza media, dopodiché sono andato a scuola alberghiero che sono ancora, lo frequento, sono il più grande della scuola quindi qua sono il padre della scuola, lo frequento ancora alla scuola e che finisco quest'anno faccio gli esami e dopodiché via un'altra vita e si comincia. Tu non sei un cittadino italiano sulla carta, però lo sei di fatti perché studi, fai dei progetti, mi parlavi prima di cominciare la trasmissione di un progetto che tu stai realizzando, parlami un po' di questa cosa perché è molto interessante. Il progetto che sto facendo per la badia del San Basile non me lo ricordo tutto il progetto perché non sono preparato bene perché ovviamente ce l'ho i miei colleghi che lo fanno lì però io lo aiuto più nella pratica che nella tecnica quindi non me lo ricordo tutto. Però ovviamente sto facendo un progetto per la badia del San Basile per realizzare questa badia che è un po' abbandonata da tanti anni e sto facendo questo progetto qua. Abbiamo parlato di tante cose però abbiamo trascurato un po' la famiglia. Ovviamente è un discorso un po' difficile. Tu riesci ancora a mantenere i contanti con loro? Sì, sì, ho ancora i contanti lo sento quasi non tutti i giorni come che deve essere però lo sento quasi a settimana o una volta lo sento sì, ce l'ho del contante. Vorrei chiederti una cosa che mi ricordo che abbiamo parlato prima della trasmissione. Mi dicevi che tu all'inizio ascoltavi molto musica vostra tradizionale adesso non lo fai più. Perché? Perché quando sono arrivato qua non sapendo italiano non sapendo niente cioè non amicizia è l'unico modo per starmi più tranquillo ascoltando la musica del mio paese e dopo di che che ho iniziato ad andare a scuola ho conosciuto i ragazzi italiani andando avanti mi stanno un po' cambiando e la che non l'ascolto più è stata la mia scelta perché quando ascoltavo magari mi arrivano i pensieri del mio paese e stavo un po' pensieroso quindi per questo non lo ascolto più non lo penso più quindi sto più diciamo e ascolto più la musica italiana che del mio paese dei progetti ce ne hai tanti la vita una vita migliore ti sei fatto qui però hai intenzione di tornare alla tua famiglia? sì sì ho intenzione di tornare ma solo per andare a trovare la mia famiglia stare un po' con loro dopo di che di noi tornare qua e cominciare come no non cominciare ma come l'ho lasciato continuare continuare sì adesso mi viene da farti una domanda che facciamo quasi lo faccio a quasi tutti i miei ospiti Italia è una terra promessa per te? sì lo posso dire sì perché perché da quando sono arrivato qua come ero come sono adesso lo posso dire sì perché sono crescito tanto come mentalmente come persona ho capito tante cose e sono arrivato a un livello che non mi ho mai immaginato quindi lo posso dire di sì perché anche se ancora non è finita quindi tra due mesi finisco la scuola dopodiché si comincia un altro progetto un'altra vita di andare oltre quindi sì lo posso dire Moabat hai preso tanto da Italia però la vita religiosa perché è molto diversa da questa cattolica tu come la vivi continua a essere con la tua religione sì sì sono ancora sono musulmano sono da sette anni che vivo qua come detto precedente sì ce l'ho deve tenermi conto della mia religione sì non lo lascio il nostro spazio sta per finire e come di consueto vorrei chiedere anche a te di fare un saluto nella tua lingua salam alaikum marina grazie per essere stato con noi grazie grazie a te per avermi invitato allora io concludo con una frase di Mika Valtari non è ricco quello che possiede oro ma è ricco quello che riesce a apprezzare quel poco che ha e potrei dire che questo ragazzo è ricco io saluto Moabat e vi do appuntamento nella prossima settimana con una nuova storia di Italia terra promessa grazie a tutti grazie a tutti